È stato emozionante sentire il suono degli applausi di nuovo, quindi come dire, trascinante sicuramente. È chiaro che è un pubblico che è diverso perché è così distante, con queste mascherine si vedono solo gli occhi, bisogna leggere negli occhi, quindi è sicuramente diverso, però è stata una grandissima emozione e siamo molto contenti che con tutte le difficoltà le persone siano tornate comunque a teatro. Gli occhi di Giulia Michelini mostrano ancora tutta l'emozione della prima, dopo molti mesi di stop alle recite dal vivo. All'Aquila, nel ridotto del teatro comunale, ancora in ricostruzione post-terremoto 2009, il debutto nazionale di Alza la Voce, produzione dello stabile abruzzese con Stefano Francioni. I 90 spettatori distanziati e con indosso le mascherine hanno applaudito la rappresentazione e le altre tre repliche previste sono già esaurite. Paola Michelini, sorella di Giulia, racconta lo spettacolo di cui è interprete e nonché regista con Paolo Civati, nato da un fatto di cronaca vera. Un orso chiuso in una teca dentro un centro commerciale in Cina. Nel nostro caso l'orso è un'orsa e quindi noi partiamo da questo fatto, lo usiamo come metafora per parlare invece della condizione femminile oggi, che per noi è un tema, non solo per noi, nel senso per tutti, è sotto gli occhi di tutti, che è un tema ancora molto, purtroppo, molto caldo. Quindi facciamo una riflessione sulla differenza di genere, sulla discriminazione e in generale però non solo sulla donna ma sull'altro un po' in generale.